Uh! Scarpia ventosa! L'intruso sta seguendo Ryder. Ci pensa Chase. Uh! Uh! Fune! Oh! Oh! Ho aciuffato il fantasma! Cosa? Un fantasma! Un fantasma! Davvero? Cuccioli! No, sono io! Ryder! Oh no! Il fantasma ha preso Ryder! No, Rubble! Non mi ha preso il fantasma. Mi ha preso la trappola. Scusa, Ryder, ma ho visto qualcosa che ti seguiva. Ma no, ero io. Non fa niente. Volevate solo dare una mano? Allora continuiamo la ricerca. Già! Avete sentito? È il mostro ballerino! Di nuovo! Meglio andare a controllare. Era un fantasma! Questo è un vero mistero. Serve l'aiuto di tutti i cuccioli. Skye, Zuma, Marshall, venite subito in giardino. Mi dispiace avervi svegliato di nuovo, cuccioli, ma ho bisogno di voi. Ehi! Dov'è Marshall? Lo ha preso il fantasma! Probabilmente starà ancora dormendo. Andiamo a controllare la sua cuccia. Ryder, guarda! Il fantasma! Oh! Oh! Non è un fantasma! È Marshall! Ehi! Terra chiama Marshall! Dove sta andando? Cuccioli, sembra che Marshall sia sonnambulo. E sta andando sullo skateboard mentre dorme. È pericoloso! Chase, andiamo! Non ci sa andare bene nemmeno da sveglio! Marshall! Sono Ryder! Svegliati! Chase, lancia la fune! Buona idea! Fune! Preso! Zuma, devi raggiungerci al molo subito! Nessun problema! Sono già qui! Wow! Bella mossa! Wow! 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 Oh, wow! Oh, no! Wow! Wow! Stavo facendo un sogno divertente in cui stavo facendo surf su una balena! Aiuto! Tieniti forte, amico! Salvaggiante! Yopeti ti parece! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! così stanche al mattino. Non preoccuparti, Marshall. Anche se sei un pò patrolla, in ogni occasione noi siamo... Anche di notte. ...a disposizione. Allora, cuccioli. È ora di andare a letto e di restarci. Rubble ha trovato altri fantasmi? Quello è un vero fantasma. Oppure è Rubble sorpreso in una trappola? Ho trovato i biscotti con doppio ripieno. Buoni!